Per noi è un motivo di crescita perché questo matrimonio lo abbiamo fatto con i migliori del settore, i leader di mercato in Italia, sia come cote di mercato che come numero di punti vendita, quindi quale matrimonio migliore di questi? È un motivo di orgoglio perché la Coppo ha scelto noi e quindi questo ci inorgoglisce, però ci ricarica anche di responsabilità. La responsabilità in quanto questo accordo vede anche uno sviluppo in altri territori fuori dalla regione Calabria, in particolare la provincia di Salerno, la provincia di Potenza e la provincia di Messina e quindi da una parte ci dà tanti stimoli per una crescita, guardare sempre avanti e crescere.